Creda che ieri sera non riusciva a dormire al pensiero che fino all'ultimo la speranza un po' diciamo c'è stata, anche se veniva il berlume di Dio si avrà fatto per odio, ma avrà fatto per mettersi in evidenza, per far capire i suoi disagi. Purtroppo invece poi la notizia è stata questa, che poverina si è levata subito dal mondo. Si fa delle riflessioni, dov'è che si sbaglia nei confronti di questi ragazzi? Non ho idea, il mestiere del genitore è così difficile che non sappiamo proprio cosa sia capitato, cosa ha scatenato nella mente di questa ragazza. Però i giovani oggigiorno secondo me vanno seguiti parecchio, dall'infanzia fino a sempre. Però a volte non è facile, c'è il lavoro, sono situazioni complesse. Questo purtroppo è così, le persone hanno bisogno di lavorare, però secondo me un po' di tempo bisogna dedicarlo ai figli, anche se si lavora. Tutti parlano, ah i giovani, il disagio, i giovani, insomma voi vedete anche tra i vostri amici un po' di questo disagio c'è, esiste? Ma effettivamente un po' di disagio c'è perché alla base della società moderna, diciamo questo bullismo, questo volere sempre essere migliore di altri c'è. E le persone più deboli sono più sensibili anche a queste cose, a questi comportamenti spiacevoli e chiaramente poi se non ce la fanno vanno a compiere dei gesti brutti così. Quindi ci vuole più educazione da parte delle persone secondo me.